Buonasera a tutti voi da Telefriuli, bentrovati all'edizione serale del nostro telegiornale. Addio a Gianni Bisiac, giornalista e scrittore goriziano che ha fatto la storia della TV pubblica. È morto all'alba a Roma e il giornalista e scrittore Gianni Bisiac aveva 95 anni. Autore di importanti inchieste speciali di storia per la RAI, ha curato per anni per il servizio pubblico la rubrica Un minuto di storia. Nato a Gorizia nel 1927, si era diplomato al liceo scientifico della città nel 1946. Era una persona straordinaria, come straordinaria è stata tutta la sua vita, ha detto il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, che lo ricorda come un grande, grandissimo goriziano che ha speso la sua vita a indagare il mondo e l'uomo in ogni loro aspetto, raccontandoli in modo magistrale e spesso contribuendo a cambiarle in meglio. È stato anche scrittore, medico, conduttore radiofonico, televisivo e regista. Gli telefonavo ad ogni compleanno per fargli gli auguri, ricorda ancora Ziberna, ed era sempre un grande piacere. Due lauree in medicina, con il massimo dei voti, una delle quali in Africa e contemporaneamente ha coltivato anche una grande precoce passione, quella per il cinema. Memorabili numerose sue interviste a grandi personaggi della storia, nel 2011 gli era stato conferito il premio Patroni Città di Gorizia. Non solo Gorizia, ma l'intera società internazionale perdono uno straordinario e ineguagliabile testimone dei tempi, conclude Ziberna, che a nome della città porge le condoglianze ai familiari. E sull'addio a Bisex, espresso presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin. Oggi abbiamo perso un altro testimone, narratore del Novecento, ha detto un grande giornalista, che ricorderemo per la sua indiscutibile professionalità. La cronaca, vorano giù dal ponte con la macchina e finiscono nel greto del Meduna, miracolate tre giovani che sono uscite dall'abitacolo distrutto, praticamente illese. Sono salve per miracolo dopo che la loro macchina è finita a ruote all'aria nel letto del torrente Meduna. Un volo di una ventina di metri con la Fiat Punto, che dopo aver sbandato l'altezza di una curva, ha divelto una spalletta di cemento lunga una decina di metri. L'auto è precipitata nel vuoto, capottandosi. Dal veicolo semidistrutto sono uscite coscienti tre giovani di 25 e 26 anni, residenti tra Udine e Martignaco. Due sono state condotte con l'ambulanza all'ospedale di Pordenone, una è stata ritrasportata a Udine. Nessuno ha riportato ferite gravi, il colpo è stato attutito da un cumulo di legna. L'incidente si è verificato questa mattina, poco prima delle sei, a Colle di Arba, in via del Ponte. Le giovani erano dirette da Maniago a Sequals. Le cause sono al vaglio dei carabinieri del radiomobile di Spilimbergo, che sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco di Maniago. Immediata la chiamata di aiuto al 212. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto due ambulanze, provenienti da Maniago e da Sequals, un'auto medica da Pordenone, insieme alle lì soccorso. Difficoltose le operazioni di recupero della macchina, che sono state affidate al soccorso stradale Sovran. Oggi la giornata nazionale memoria delle vittime della strada. Nel 2021 nella nostra regione si è registrato il più alto numero di sinistri dall'esito mortale, tra le cause di incidenti, la distrazione, la velocità elevata, il mancato rispetto della distanza di sicurezza e della segnaletica stradale. Più incidenti stradali dall'esito mortale. Maglia nera per il Friuli Venezia Giulia, che come attestato da Ista Teaci, è risultata essere la regione dove nel 2021 i decessi causati da sinistro sono stati 82 in un anno. Se l'autostrada A4 continua ad essere sicuramente l'arteria dove si verifica il maggior numero di incidenti con vittime, la Ponte Bane e la strada che da Piscina porta a Prosecco non sono da meno. Il livello di mortalità, sempre riferito all'anno scorso, è stato di 6,8 morti per 100 abitanti. Non era così alto dal 2014, la media nazionale invece si attesta al 4,9. Dati che oggi giornata nazionale in memoria delle vittime della strada sono dir poco allarmanti. Un momento significativo, come fa sapere la Polizia di Stato, che impone una riflessione su quanto sia importante sulla strada adottare condotte consapevoli e corrette. Distrazione, velocità elevata, mancato rispetto della distanza di sicurezza e della segnaletica stradale, sono solo alcuni dei tanti errori che si commettono quando si è al volante di una macchina o di qualunque altro mezzo. Ma anche tra i pedoni non sono infrequenti comportamenti azzardati, dettati molto spesso dalla distrazione o più semplicemente dalla fretta. Scontro di gioco nel pomeriggio di oggi a Pravis Domini, nel corso della partita di calcio di seconda categoria tra Pravis, 1971 e Polcenigo Budoia. Il centrocampista Michele Rossi, di 24 anni, è stato colpito al volto da un avversario, è entrato con la gamba alta, Rossi è caduto a terra, ha frastornato, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto un'ambulanza da San Vito al Tagliamento e l'elissoccorso. Il medico ha valutato sul posto, il giovane giocatore è stato disposto, quindi il suo trasferimento in ambulanza all'ospedale di Pordenone. Il trauma che ha subito, infatti, non è fortunatamente grave. La statua di Carlos Gorlon, che è stata inaugurata ieri mattina a Udine, imbrattata nella notte, è stata tempestivamente pulita dallo stesso artista che l'ha realizzata. L'atto vandalico è stato condannato dal sindaco di Udine Fontanini, che auspica che per gli autori ci sia una pena esemplare. Imbrattata poche ore dopo essere stata inaugurata, la statua di Carlos Gorlon, che sorge di fronte alla biblioteca civica di Udine, è stata tempestivamente ripulita da Calogero Condello, l'artista che l'aveva realizzata. Il sindaco Pietro Fontanini ha ringraziato lo stesso Condello e l'assessore Fabrizio Cigolot per essere intervenuto con rapidità. È stata imbrattata durante la notte, ha puntualizzato il primo cittadino, da qualche incivile, che non ama il bello, che non ama l'arte, che non sa apprezzare la letteratura perché è troppo ignorante. Ringrazio anche la polizia locale di Udine e mi auspico che grazie anche alla presenza delle telecamere i responsabili possano essere individuati e perseguiti in modo esemplare. Vandali avevano imbrattato la statua nella notte, lasciando una sigla con vernice spray fucsia sulla parte posteriore dell'opera, nella quale Sgorlon viene rappresentato, mentre si dirige idealmente verso la biblioteca comunale. Solamente ieri mattina la pronipote del cantore del Friuli aveva tolto il velo dalla statua bronzea. A Imponso di Tolmezzo un cacciatore ottantenne del posto è ruzzolato per una ventina di metri lungo un pendio nei pressi del rio Mignezza. Con lui c'erano degli amici che hanno attivato i soccorsi tramite il numero unico 112 e Sores. Sul posto i tecnici del soccorso alpino di Fornia Voltri, assieme a guardie di finanza e alle di soccorso. Stabilizzato e imbarellato, l'anziano è stato trasportato fino a una radura a spalle e poi vericellato a bordo per essere condotto a Udine. Non è in pericolo di vita. Volontari di protezione civile impegnati oggi in numerose attività di addestramento. A Udine, nella sede comunale, una trentina di volontari ha preso parte al corso di radiocomunicazioni a Valvasone Arzen, esercitazione del distretto Meduna Tagliamento, mentre i cinofili sono stati impegnati ad Aviano. Nell'ambito delle attività di addestramento operativo in materia di antincendio boschivo, la stazione forestale di Barcis, in collaborazione con i colleghi di Maniago e Claut del gruppo AIB di protezione civile di Montereale-Valcellina, ha organizzato ieri a Montereale un'esercitazione di antincendio boschivo consistita nella simulazione dello spegnimento di un incendio divampato in una macchia boscosa vicino a un corso d'acqua. È stato allestito al modulo antincendio con il montaggio di un vascone per il pescaggio dell'acqua da parte dell'elicottero. Andiamo a San Vito a Tagliamento dove si attende l'arrivo di 14 milioni di euro, 10 di questi si serviranno per realizzare la nuova sede della nostra famiglia, 4 invece sono destinate al completamento della cittadella dello sport. 14 milioni di euro in arrivo a San Vito a Tagliamento, una cifra importante che permetterà di realizzare la nuova struttura della nostra famiglia, associazione impegnata nella riabilitazione di bambini e giovani disabili. Per il nuovo edificio che sorgerà dietro l'attuale struttura in via della bontà è prevista una spesa di 10 milioni. Una struttura nuova, con tutti i criteri attuali richiesti dalla legge, è una sede sicuramente molto più accogliente che metterà nelle migliori condizioni gli operatori naturalmente di lavorare e portare avanti le proprie attività, ma soprattutto un grande investimento per le famiglie e per tutti i ragazzi che fanno parte di questa importantissima struttura che caratterizza un po' il nostro polo sanitario e il nostro polo sociale. Altro investimento significativo, si parla di 4 milioni, è previsto per il completamento della cittadella dello sport. Si attende a questo proposito un contributo regionale. Abbiamo presentato questo progetto da 4 milioni e 200 mila euro che prevede la realizzazione di una bretella da via della SP21, la strada che porta a Bannia e porta fino alla piscina comunale e lascerebbe libera, diciamo, quindi spazio interno alla cittadella, l'attuale via dello sport. E poi all'interno di questo progetto, oltre a nuovi spogliatoi, a nuove tribune e locali tecnici e parcheggi, chiaramente perché la cittadella è pensata in particolar modo in termini di viabilità logistica, miglior viabilità logistica, c'è il campo artificiale. Erba sintetica. Esatto, è chiaramente una delle richieste storiche delle nostre società sportive. Dalla Regione, 250 mila euro per il 2022 a favore di comuni costieri della Regione a sostegno delle operazioni di smaltimento in discarica del materiale spiaggiato, lo ha deciso la Giunta nell'ultima seduta su proposta dell'assessore Bini ed è stata stilata anche la graduatoria delle domande ammesse. Quattro le domande pervenute per il 2022 al Comune di Grado, 118 mila 602 euro, Monfalcone, 67 mila e 37, a Staranzano, 25 mila 810, al Comune di Trieste, 38 mila 550 euro. Torniamo a Udine, dove sono già oltre 500 le squadre iscritte alla Stafetta 24 per un'ora di Teleton per codere in beneficenza, raccogliere fondi da destinare a ricerca contro le malattie rare. Teleton che da quest'anno torna in presenza. Presidente, un'occasione qui al Carnera per rinnovare l'invito a Teleton che sta per partire e si torna dal vivo. Finalmente ritorniamo sulla strada invece che in corse virtuali. Quindi dal 3 al 4 dicembre, dalle ore 15, base Piazza Primo Maggio, ci ritroveremo. Abbiamo già un'adesione incredibile, sono più di 500 squadre, quindi stiamo parlando di oltre 12 mila atleti o comunque sostenitori di questa iniziativa. Vi aspettiamo, le iscrizioni sono ancora aperte, si può correre anche da remoto con una app che si può scaricare dal sito teletonudine.it e quindi ognuno può fare la sua gara anche senza il vincolo di essere in una squadra e senza il vincolo di orari, ma comunque con l'impegno di partecipare a questa iniziativa che ha raccolto molto denaro a favore di Teleton che fa studio, ricerca sulle malattie rare. Udine è la terza città in Italia, dopo Milano e Torino, quindi città molto più importanti, in termini di somme raccolte. Fino ad ora abbiamo raccolto oltre 5 milioni di euro in 24 anni di storia e contiamo di andare avanti ancora così perché siamo grandi. Un invito rinnovato prima della palla a due della gara tra più al World West Udine e Pistoia al Carnera. Andiamo da qui lei dove a breve partiranno i lavori di ristrutturazione di Palazzo Brunner. Ad Aquileia si aprono in questi giorni le buste per assegnare i lavori di ristrutturazione di Palazzo Brunner. L'opera sarà del costo di 3 milioni di euro. È uno dei tasselli fondamentali del grande progetto su cui stiamo lavorando e su cui i prossimi mesi andremo a presentare come dire andremo a presentarlo pubblicamente perché sicuramente delle sorprese sono tante. Devo dire che questi mesi il Consiglio dell'amministrazione e la struttura della fondazione hanno lavorato molto per arrivare a questi risultati in coordinamento con la soprintendenza con l'ufficio unico regionale. Un lavoro di squadra che consente ad accelerare i progetti messi a sistema. Abbiamo un percorso di lavori che partiranno col 23 molto importante che andranno a riguardare diverse aree del territorio di Aquileia e quindi andremo a presentarle in maniera organica insieme anche agli altri soggetti. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per averci seguito. Vi auguro un buon proseguimento di serata in nostra compagnia. Arrivederci. Grazie a tutti.